E Ludovica Peracino con il tempo di 7.8.7.0 conduce la classifica provvisoria di questa categoria. Percorso letto. L'onuca Camoletto monta Gina H. E' calma. Lui un po' meno ma lei è calma. Anche fin troppo calma. Bene. Piano. E' molto più fermo. E' molto più fermo. E' molto più fermo. E' molto più fermo.